Ciao a tutti! Il motivo che andiamo a vedere oggi è un motivo preso appunto dal libro della Bibbia giapponese, esattamente 250 motivi di Itomishira, è esattamente il numero 143. Andiamo insieme a vederlo più dettagliatamente. Allora è il numero 143, esattamente questo. Io ne ho fatto solo una parte, quindi solo questa prima parte qui ed esattamente fino appunto a qua. Allora il motivo è formato da, allora qui mi indica nello schema, 18 maglie, però nella realtà sono 19 perché io ho aggiunto, sono andata ad aggiungere una maglia in più perché altrimenti non sarebbe tornato da questa parte. Quindi per far tornare appunto il motivo io ho aggiunto una maglia, per cui noi andremo a montare sul ferro 19 maglie per fare un solo motivo, dopodiché se vogliamo appunto farne un altro andremo a fare 19, 19, 19 eccetera, più le mie quattro maglie di vivagno, quindi due per ogni lato che vanno a formare appunto il bordo. Sul davanti si presenta in questo modo, togliamo un attimino il libro, scusate. Allora sul davanti si presenta in questo modo e si realizza appunto e si realizza in altezza in 28 ferri. Sul dietro si presenta così e incontreremo come punti nuovi l'SSK e l'SSP. L'SSK non è altro che in inglese slip slip knitted, quindi passa passa letteralmente a diritto, è un diritto, e corrisponde alla nostra diminuzione semplice italiana o a cavallata semplice, mentre l'SSP corrisponde più o meno alle nostre due maglie prese insieme a rovescio ritorto. Io vi farò vedere comunque nel video come fare l'SSK e le varie alternative e come ovviamente fare l'SSP. Andiamo adesso a vedere come si procede. Allora ho montato sul ferro 19 maglie più le mie 4 di vivagno. Andiamo adesso a vedere come si procede. Primo ferro, vado a fare il mio vivagno, un rovescio, 8 diritti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Un rovescio, 8 diritti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E un rovescio. Chiudo il ferro con il mio vivagno. Secondo ferro. Tutte le maglie a diritto, a parte i miei vivagni che vanno a rovescio. Quindi il vivagno a rovescio e tutte le maglie a diritto. Quindi proseguite in questo modo fino alla fine del ferro. terzo ferro. Vado a fare il mio vivagno, un rovescio, 2 maglie insieme a diritto e un gettato, 2 maglie insieme a diritto e un gettato, 2 maglie insieme a diritto e un gettato. Un rovescio, un gettato e adesso abbiamo l'SSK. Quindi sposto due maglie sul ferro di destra, le riprendo con il ferro di sinistra e le lavoro a diritto ritorto. Oppure continuiamo un gettato, SSK o diminuzione semplice, quindi passo una maglia sul ferro di destra senza lavorarla, lavoro la seconda a diritto, passo la prima sopra la seconda. Il risultato è lo stesso dell'SSK, decidete voi con quale proseguire. Un gettato e una diminuzione semplice o SSK. Un gettato SSK o diminuzione semplice. e chiudo con un rovescio, il mio vivagno. Quarto ferro, tutte le maglie a diritto, quindi vado a fare il mio vivagno che è a rovescio e proseguo con tutte le maglie a diritto. Compresi appunto il vivagno. Quindi proseguite in questo modo fino alla fine del ferro. Quinto ferro, vado a fare il mio solito vivagno. Un rovescio. otto diritti. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto. Un rovescio. otto diritti. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto. E chiudo con un rovescio. E il mio vivagno. Sesto ferro. Vado a fare le maglie come si presentano. Quindi vado a fare il mio vivagno che è a rovescio. Un diritto. Otto rovesci. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto. E chiudo con un diritto. Il mio vivagno. Che è a rovescio. Settimo ferro. Vado a fare il mio vivagno. Un rovescio. Due maglie insieme a diritto. Due maglie insieme a diritto. Due maglie insieme a diritto. Un gettato e un diritto. Un gettato e un rovescio. Un gettato e un diritto. Un gettato e un diritto. Un gettato. Una diminuzione semplice OSSK. Diminuzione semplice OSSK. Diminuzione semplice OSSK. E un rovescio. E il mio vivagno. Ottavo ferro. Vado a fare tutte le... Allora, scusate. Allora, due rovesci che è il mio vivagno. Poi, un diritto. Otto rovesci. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. E otto. Un diritto. Otto rovesci. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. E otto. E un diritto. E chiudo con il mio vivagno. Non ho ferro. Vado a fare il mio vivagno. Un rovescio. Otto diritti. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. E otto. Un rovescio. Otto diritti. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. E otto. E un rovescio. E chiudo il ferro con il mio vivagno. Decimo ferro. Vado a fare il mio vivagno che è a rovescio. E tutte le maglie vanno a diritto. Quindi proseguo in questo modo fino alla fine del ferro. Undicesimo ferro. Vado a fare il mio vivagno. Un rovescio. Due maglie insieme a diritto. Un rovescio. Un rovescio. Un rovescio. un gettato una diminuzione semplice OSSK un gettato una diminuzione semplice OSSK un gettato una diminuzione semplice OSSK e un rovescio e chiudo con il mio vivagno dodicesimo ferro vado a fare il mio vivagno che è a rovescio e tutte le maglie a diritto quindi proseguite in questo modo fino alla fine del ferro tredicesimo ferro vado a fare il mio vivagno un rovescio 8 diritti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 un rovescio 8 diritti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e un rovescio e chiudo il ferro con il mio vivagno quattordicesimo ferro vado a fare le maglie come si presentano quindi il mio vivagno che è a rovescio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e un diritto e chiudo il ferro con il mio vivagno il quindicesimo ferro vado a fare il mio vivagno un rovescio 3 diritti 1, 2 e 3 2 maglie insieme a diritto 3 diritti 1, 2 e 3 un gettato un rovescio un gettato e 3 diritti 1, 2 e 3 diminuzione semplice o SSK 3 diritti 1, 2, 3 e un rovescio e chiudo il ferro con il mio vivagno sedicesimo ferro vado a fare il mio vivagno che è a rovescio sul rovescio del lavoro un diritto due rovesci 1 e 2 SSP allora sposto il filo sul davanti come se dovessi fare un rovescio sposto le maglie sposto due maglie sul ferro di destra senza lavorarle le riprendo con il ferro di sinistra le riporto sul ferro e le prendo da dietro e le lavoro a rovescio ritorto in questo modo proseguo con tre rovesci 1, 2 e 3 un gettato e un rovescio un diritto un rovescio un gettato e tre rovesci 1, 2 e 3 2 maglie insieme a rovescio 2 rovesci 1 e 2 e un diritto e chiudo il ferro con il mio vivagno diciassettesimo ferro allora vado a fare il mio vivagno un rovescio un diritto 2 maglie insieme a diritto 3 diritti 1, 2 e 3 un gettato due diritti 1 e 2 un rovescio due diritti un gettato tre diritti 1, 2 e 3 una diminuzione semplice ho SSK un diritto e un rovescio e chiudo il ferro con il mio vivagno diciottesimo ferro vado a fare il mio vivagno che è a rovescio un diritto SSP quindi sposto le due maglie sul ferro di destra le riprendo e le riporto sul ferro di sinistra e le lavoro a rovescio ritorto prendendole appunto da dietro in questo modo così tre rovesci 1, 2 e 3 un gettato e tre rovesci 1, 2 e 3 un diritto tre rovesci 1, 2, 3 un gettato e tre rovesci 1, 2, 3 due maglie insieme a rovescio e un diritto e chiudo il ferro con il mio vivagno diciannovesimo ferro vado a fare il mio vivagno un rovescio un rovescio tre diritti 1, 2 e 3 due maglie insieme a diritto tre diritti 1, 2 e 3 un gettato e un rovescio un gettato e tre diritti 1, 2 e 3 una diminuzione semplice o SSK tre diritti 1, 2, 3 e un rovescio e chiudo il ferro con il mio vivagno ventesimo ferro vado a fare il mio vivagno che è a rovescio un diritto due rovesci 1 e 2 SSP tre rovesci 1, 2 e 3 un gettato e un rovescio un diritto un rovescio un gettato e tre rovesci 1, 2 e 3 due maglie insieme a rovescio due rovesci e un diritto e chiudo il ferro con il mio vivagno che è a rovescio perché siamo sul rovescio del lavoro ventunesimo ferro vado a fare il mio vivagno un rovescio un diritto due maglie insieme a diritto tre diritti 1, 2 e 3 un gettato due diritti 1 e 2 un rovescio due diritti 1 e 2 un gettato e tre diritti 1, 2 e 3 una diminuzione semplice o SSK un diritto e un rovescio e chiudo il ferro con il mio vivagno il ventiduesimo ferro vado a fare il mio vivagno che è a rovescio un diritto SSP vado a prendere le maglie da dietro e le lavoro a rovescio di torto tre rovesci 1, 2 e 3 un gettato e tre rovesci 1, 2 e 3 un diritto tre rovesci 1, 2 e 3 un gettato e tre rovesci 1, 2 e 3 due maglie insieme a rovescio e un rovescio scusate un diritto non un rovescio un diritto e chiudo con due rovesci ok ventitresimo ferro vado a fare il mio vivagno un rovescio tre diritti 1, 2 e 3 due maglie insieme a diritto tre diritti 1, 2, 3 un gettato e un rovescio un gettato e tre diritti 1, 2, 3 una diminuzione semplice o SSK tre diritti 1, 2, 3 e un rovescio e chiudo il ferro con il mio vivagno ventiquattresimo ferro vado a fare il mio vivagno che è a rovescio un diritto due rovesci 1 e 2 SSP tre rovesci 1, 2, 3 un gettato e un rovescio un diritto un rovescio un gettato e tre rovesci 1, 2 e 3 due maglie insieme a rovescio due rovesci e un diritto e chiudo il ferro con due rovesci di vivagno venticinquesimo ferro vado a fare il mio vivagno un rovescio un diritto due maglie insieme a diritto tre diritti 1, 2 e 3 un gettato e due diritti 1 e 2 un rovescio due diritti 1 e 2 un gettato e tre diritti 1, 2 e 3 una diminuzione semplice o SSK un diritto e un rovescio e chiudo il ferro con il mio vivagno ventiseiesimo ferro vado a fare il vivagno che ha rovescio sul rovescio del lavoro un diritto ssp 3 rovesci 1, 2 e 3 un gettato e tre rovesci 1, 2 e 3 un diritto 3 rovesci 1, 2 3 un gettato e tre rovesci 1, 2 e 3 2 maglie insieme a rovescio e un diritto e chiudo il ferro con il mio vivagno ventisettesimo ferro vado a fare il mio vivagno un rovescio un rovescio 8 diritti 1, 2 3 4 5 6 7 e 8 un rovescio e chiudo il ferro con il mio vivagno ventottesimo ventottesimo e ultimo ferro vado a fare il mio vivagno che è a rovescio un diritto 8 rovesci 1, 2 3 4 5 6 7 e 8 un diritto 8 rovesci 1, 2 3 4 5 6 7 e 8 e un diritto e chiudo il ferro con il mio vivagno benissimo il motivo è terminato per poter diciamo replicarlo non dobbiamo far altro che andare a ripetere i ferri dal numero 1 al numero 28 il motivo è terminato ci vediamo alla prossima ciao ciao